Da quella che è la mia esperienza i controlli sono insufficienti, cioè ultimamente sono abbastanza attivi e vedo che sono molto molto attivi, però sono insufficienti per una questione di conoscenza del prodotto e di capire qual è il sacchetto non conforme o il sacchetto conforme. C'è ancora una giungla, ancora c'è di tutto e di più sul mercato, che porta a confondere anche l'organo di controllo. Quindi si potrebbe fare un po' di formazione in più per individuare il prodotto conforme da quello non conforme. E dal momento che si ha l'individuazione del prodotto non conforme, penalizzarlo amaremente.